Volevo partire col suo aiuto proprio da questa riflessione su sugli anziani, sui loro bisogni, ma anche sulle disabilità e su tutto ciò che ATS in Sub, Regione Lombardia attraverso ATS, deve mettere in campo per andare incontro a queste persone. Non è materia da poco. Certamente, lei ha toccato i temi fondamentali che sono l'attenzione della programmazione locale e regionale. Da un lato l'aspetto della cronicità e della fragilità che è indubbiamente legato anche a un invecchiamento della popolazione che è un elemento, un dato positivo, vuol dire che gli stili di vita, il modo di vita nostro, anche gli interventi di prevenzione e le cure danno i loro risultati. È chiaro che però invecchiando la popolazione aumenta la tematica della cronicità e quindi anche dal punto di vista della richiesta di servizi e i bisogni che la popolazione esprime sono molto cambiati rispetto a un conosciuto. Volevo partire col suo aiuto proprio da questa riflessione sugli anziani, sui loro bisogni, ma anche sulle disabilità e su tutto ciò che ATS in Sub, Regione Lombardia attraverso ATS, deve mettere in campo per andare incontro a queste persone. Non è materia da poco. Certamente, lei ha toccato i temi fondamentali che sono l'attenzione della programmazione locale e regionale. Da un lato l'aspetto della cronicità e della fragilità, che è indubbiamente legato anche a un invecchiamento della popolazione, che è un elemento, un dato positivo, vuol dire che gli stili di vita, il modo di vita nostro, anche gli interventi di prevenzione e le cure danno i loro risultati. È chiaro che però, invecchiando la popolazione, aumenta la tematica della cronicità e quindi anche dal punto di vista della richiesta di servizi e i bisogni che la popolazione esprime, sono molto cambiati rispetto anche a uno scenario di 10-15 anni fa. Certamente è importante creare e allestire una rete di prossimità. Prima di tutto bisogna capire il territorio che bisogna esprime, parlare con i sindaci, programmare insieme a loro, perché i sindaci sono in grado di recepire dalla popolazione i bisogni che essa esprime. Bisogna cercare di meglio strutturare quel gap che esiste dal momento del ricovero, quindi dal momento dell'acuzie, a rientro sul territorio, a rientro a domicilio, oppure a rientro a una struttura laddove c'è la necessità di un intervento di carattere residenziale. Bisogna cercare un po' di creare un tessuto, perché di fatto la rete lombarda è molto ricca di interventi. Ci sono una miriade di unità d'offerta sociosanitarie, ci sono delle reti che si stanno implementando. Bisogna cercare però in qualche maniera di collegare tra di loro, anche creando dei percorsi facilitati dove la persona si possa orientare, la famiglia possa essere orientata con facilità. Ci siano soprattutto dei percorsi che siano fluidi, non ci siano intoppi, quindi il momento critico allo stato attuale della dimissione deve essere in qualche maniera fluidificato, in maniera che la persona e la famiglia non trovino problemi nel rientrare a domicilio, quindi avere un servizio domiciliare di qualità degli interventi domiciliari di un certo tipo, oppure interventi di altro tipo che possano trovare in una rete sociosanitaria territoriale che decisamente in Lombardia è veramente ricca. Il tema della presa in carico, quello forse più complesso, più articolato, la rete sociosanitaria a cui faceva accenno deve accompagnare l'utente fino alla propria casa garantendo anche un minimo di supporto a domicilio. Questo lo dico anche perché, come lei sa, le cronache sono piene di brutte notizie su presunti sedicenti badanti che poi si approfittano magari del paziente. Cioè ci deve essere comunque una sorta di rete di protezione intorno a chi soffre? Certamente più del 33% della popolazione è affetta da patologie croniche. Questo 33% assorbe il 79,9% di tutte le risorse che vengono impegnate nella sanità. Quindi è una tematica, anche dal punto di vista della sostenibilità, di estrema importanza. Giustamente, lei dice, spesso la persona anziana è un po' preda di persone che magari non sono mosse dalle migliori intenzioni. E effettivamente questa è una tematica che sta venendo fuori, anche perché lo scenario del tessuto della rete sociale nostra è molto cambiato ancora, nel senso che ci sono molti nuclei monofamigliari. Cioè spesso la persona è da sola a casa. Anche la persona anziana, magari che ha un certo grado di autosufficienza, però magari è anziana e risulta sola. Ha le risorse economiche per mantenersi, ma non le risorse psicofisiche. Ha le risorse economiche, però effettivamente è a casa da sola. Per cui spesso, magari, per una situazione anche di debolezza, o comunque di una fragilità, spesso può essere anche, come dire, orientata a fare delle scelte non adeguate. Quindi se è giustamente accompagnata può trarne un giovamento da questa cosa. Senta dottore, però il problema di posti letto, con qualche numero possiamo confermarlo? Noi ancora in Italia e anche nel nostro territorio abbiamo carenza di posti letto rispetto, diciamo, alla media europea? Dunque, allora, gli indirizzi nazionali sono di ricondurre il numero di posti letto a 3,7 per mille abitanti, di cui 3 sugli acuti e 0,7 sulle a riabilitazione. Il territorio dell'Insubria è perfettamente allineato a questa percentuale. Bisogna dire una cosa, che però questa percentuale è legata appunto a interventi a livello nazionale per ricondurre la spesa entro determinati limiti. dobbiamo ricordare che a livello europeo, per esempio in Francia, la percentuale di posti è il 6 per mille e in Germania è l'8 per mille. Quindi chiaramente è chiaro che in qualche situazione questo numero di posti potrebbe creare delle difficoltà. Si tratta di comprendere meglio come può essere strutturato l'utilizzo di questi posti, perché giustamente, come dice lei, effettivamente potrebbero per alcune specialità, per alcuni servizi, crearsi delle liste d'attesa e esiste anche il problema dei ricoveri che seguono gli accessi in pronto soccorso che sicuramente qualche criticità in determinato periodo dell'anno potrebbero portarle. Se la persona che ha la necessità di questo tipo potesse trovare sul territorio delle risposte più agili, più veloci, magari sicuramente non andrebbe a rivolgersi al pronto soccorso e quindi a occupare dei posti letto che magari potrebbero essere utilizzati per altre situazioni. Ci sono delle possibilità che in futuro potrebbero andarsi a configurare anche lo studio di regione, per esempio la tematica dell'ospedale di comunità, dove effettivamente con un'organizzazione più semplice, più agile, si potrebbe dare la risposta a molte tematiche che affliggono, che vengono a interessare la popolazione cronica e la popolazione anziana. La figura del medico di medicina generale è fondamentale. Ancora di più oggi in una situazione dove i bisogni sono più di carattere territoriale. Avere una figura di un sanitario, di un professionista, che è il punto di riferimento per la popolazione al primo presidio sul territorio, è estremamente importante. Ma l'abbiamo visto anche sulla tematica della presa in carico della cronicità. Il grosso del lavoro l'hanno fatto i medici di medicina generale. È un professionista decisamente importante, specialmente in questo scenario attuale. Qual è il problema? Che oggettivamente non si può lasciare solo il professionista. I bisogni non sono più quelli di 20-30 anni fa. Anche la medicina è evoluta. Cioè il medico di medicina generale si trova a dover rispondere a molte tematiche, a molte richieste, e spesso magari, non dico che sia anche lui abbandonata, ma è inserito in un sistema che magari ha qualche rigidità, qualche lentezza. Anche qui bisogna cercare di riprendere il contatto con i professionisti, cercare di lavorare con loro per cercare di trovare i sistemi più fluidi possibili, risolvere la tematica, per esempio, di alcune liste di attesa, per cercare di facilitare i percorsi. Comunque, anche sulla tematica della medicina generale, la medicina del territorio, grava sempre il problema della difficoltà anche qua di reperire i professionisti, perché la carenza di professionale medico è presente su tutti i settori della sanità. La Regione Lombardia ha cominciato a dare una prima risposta, aumentando il numero di medici che si formano nel corso per la medicina generale, quindi per quanto riguarda l'insubria, allo stato attuale è partito un corso che prevede la frequenza dei 60 giovani medici che in un triennio si formeranno per poter poi diventare medici in medicina generale su tre poli formativi, uno a Varese, uno nella SST Valeolona e uno a Comun, nella SST Lariana.